A Reggio Calabria ci saranno più tamponi per monitorare l'emergenza coronavirus, lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Falcomatà. Ho dato mandato all'ufficio di ragioneria di fare un prelievo dal fondo di riserva per acquistare tamponi da distribuire sia al grande ospedale metropolitano che all'Asp. Faremo un primo contributo per 2.000 tamponi, siamo nelle condizioni e vogliamo naturalmente fare di più, però è chiaro che è importante che prima vengano fatti questi 2.000 tamponi perché soltanto aumentando il numero di tamponi avremo un quadro chiaro della situazione coronavirus in città.